La guerra in Ucraina in fase d'autunno si prepara alla battaglia di Kherson. Putin segue la simulazione di un attacco nucleare contro la Russia. Il governo tedesco approva la partecipazione dei cinesi di Cosco nella gestione del porto di Hamburgo con una quota inferiore al 25%. Rishi Sunak, nuovo premier britannico, ha affrontato la prima battaglia parlamentare a Westminster. Il leader dei laboristi, Keir Starmer, chiede le elezioni. Le Nazioni Unite lanciano un ulteriore grido di allarme. Non si sta facendo abbastanza per combattere il riscaldamento globale. La controffensiva dell'Ucraina contro le forze russe nella regione meridionale di Kherson sembra essere rallentata a causa del clima umido e del terreno diventato più pesante. Il ministro della difesa ucraino parla di forti pressioni dei reparti di Kiev contro le truppe russe. La regione è strategicamente importante. È stata occupata da Mosca all'inizio dell'invasione. Il governatore nominato dai russi a Kherson ha annunciato che circa 70.000 civili sono stati trasferiti dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva sinistra, nell'oblast di Kherson. Le ragioni dipendono dagli assalti delle forze armate ucraine, ma le autorità di Kiev sostengono che le forze di Mosca stiano effettivamente preparando il campo per una battaglia senza quartiere. A Mosca il presidente Putin ha assistito, con collegamento video, ad esercitazioni militari programmate che simulavano un massiccio attacco nucleare. L'attuale narrativa del Cremlino continua a battere sulle intenzioni dell'Ucraina di far esplodere un ordigno radioattivo, bomba sporca, per dare la colpa ai russi. Dal canto su il presidente Zelensky afferma che l'intelligenza ucraina ha rivelato che la Russia ha utilizzato circa 400 droni iraniani nelle operazioni belliche. Il governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz ha chiuso l'intesa per l'ingresso della compagnia statale cinese Cosco nella gestione di uno dei quattro terminal del porto di Hamburgo. Rispetto all'offerta originale del 35%, l'azienda cinese acquisisce una quota ridotta al 24,9% del terminal 3. Il porto di Hamburgo è l'ultimo di una serie di investimenti che ha visto la Cina acquisire azioni nei principali hub marittimi in tutta Europa, alcuni interamente sotto il controllo di Pechino. Il cancelliere Scholz ha spinto decisamente per l'ingresso cinese nel porto di Hamburgo, città di cui è stato sindaco per sette anni, e si recherà in Cina ai primi di novembre con una delegazione di imprenditori tedeschi. Ma i partner della coalizione di governo hanno messo in guardia contro la crescente influenza cinese sulle più importanti infrastrutture tedesche. E' il caso del ministro dell'economia, il verde, Robert Abeck. E' importante aver appreso la lezione. Abbiamo capito che la dipendenza da paesi che potrebbero mettere i loro interessi davanti a tutto e poi volerci ricattare non è più solo un fenomeno astratto, ma basta guardare la Russia e il gas, è una realtà in questo mondo. Non dovremo ripetere questi errori. Il crescente coinvolgimento della Cina nei porti europei è uno dei temi di dibattito all'interno dell'Unione Europea. I leader dei 27 stanno cercando di trovare un delicato equilibrio tra l'attrattività del commercio con la Cina e la limitazione del suo potenziale impatto commerciale sull'Europa. Il nuovo premier britannico Rishi Sunak esce dal numero 10 di Downing Street a passo svelto. Lo attendono molti ostacoli da superare dopo poco più di 48 ore dall'insediamento, a cominciare dalla richiesta di elezioni generali da parte del partito laburista. Dopo la prima riunione completa del suo governo, Sunak è apparso a Westminster ad annunciare battaglie in Parlamento al nuovo premier e Keir Starmer, il leader dei laburisti. Anche il suo stesso partito sa che non è dalla parte dei lavoratori. L'unica volta che si è candidato ad un'elezione per la leadership dei conservatori è stato sconfitto dall'ex primo ministro. Quindi, perché non si fa da parte e lascia lavorare le persone che hanno voce in capitolo per indire le elezioni generali? Sunak ha ribadito di avere un mandato popolare ereditato dalla vittoria elettorale dei Tories di Boris Johnson nel 2019. Il nostro mandato si basa su un programma su cui siamo stati eletti per ricordare un'elezione che abbiamo vinto e voi avete perso. Un programma che dice che vogliamo un servizio sanitario più forte, scuole migliori, strade più sicure e controllo dei nostri confini. Questo è il programma che io e questo governo consegneremo al popolo britannico. Dopo mesi di caos all'interno del partito conservatore, la prima sfida di Sunak è portare unità e stabilità proprio all'interno dei Tories. Ma i laburisti hanno un enorme vantaggio nei sondaggi e non è detto che per votare di nuovo si debba aspettare ancora due anni. Nessuna sorpresa, il Senato ha approvato agevolmente, con 115 voti a favore e 79 contrari, il programma di governo della neopremier Giorgia Meloni. Fiducia accordata dunque alla leader di Fratelli d'Italia. Come già accaduto martedì alla Camera, la Meloni ha voluto prendere le distanze dall'immagine di ultradestra nostalgica del fascismo e vicina alla Russia. Alla domanda sull'Ucraina ha risposto. Quella in Ucraina è una guerra di aggressione che noi non possiamo accettare. Non la posso accettare io che, figuriamoci, ho sempre difeso il principio della legittima difesa. La pace si ottiene sostenendo l'Ucraina per consentire all'Ucraina di difendersi. È l'unica possibilità che abbiamo che le parti in campo possano decidere di negoziare. Dopo questo voto, Meloni completa l'iter per governare con il sostegno di Forza Italia e della Lega. La Premier ha chiuso il suo intervento in aula chiedendo all'opposizione di avere coraggio e di valutare le misure del suo esecutivo in base al merito e non per ragioni ideologiche. Altri due corpicini senza vita arrivati nelle scorse ore a Lampedusa. I due bambini, due gemelli di circa un mese, sono morti durante la traversata iniziata sabato dalla Tunisia. Ma i migranti, soccorsi dagli uomini della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e di Frontex, sono ben 1.157. Su due barconi alla deriva nella zona Sartra, Malta e Italia. A prestare soccorso ai profughi sono state le navi umanitarie Ocean Viking e Humanity One. Lampedusa, ma anche Pozzallo, Catania, Augusta, Messina e Crotone i porti chiamati ad accogliere i migranti. Ma sulla questione si consuma l'ennesimo braccio di ferro dopo la presa di posizione del Viminale che nei giorni scorsi ha voluto riaffermare il principio della responsabilità degli stati di bandiera delle navi di soccorso. Intanto il 2 novembre il memorandum Italia-Libia contestato dalle ONG verrà automaticamente rinnovato. Secondo Amnesty International l'intesa firmata dal governo Gentiloni per ragionare i flussi migratori ha provocato il rinvio in Libia di 82.000 persone costrette a detenzioni arbitrarie, torture e stupri. Sono tornati a popolare le acque del Tago a Lisbona. Non è più un'eccezione vedere la pinna dorsale dei delfini fendere l'estuario del fiume uno dei più grandi d'Europa ed è il segno che la pressione sull'ecosistema si è ridotta. In altre parole la qualità dell'acqua è migliorata grazie agli interventi che hanno abbattuto l'inquinamento delle acque reflue. Negli anni 80 e 90 la maggior parte delle nostre acque reflue finiva direttamente nel Tago. C'era anche una forte industrializzazione sulle rive del fiume. Alla fine degli anni 90, nel 2000 e nel 2010, gli impianti hanno finalmente iniziato a trattare tutte le acque reflue a livello urbano e industriale. Il ritorno dei delfini è stato il punto di partenza dello studio presentato a Lisbona dall'Associazione per la Natura, una ONG che lavora in collaborazione con il WWF. Il report sottolinea la necessità di non abbassare la soglia di tutela e di avviare un monitoraggio ambientale per assicurare la protezione dell'ecosistema. Le Nazioni Unite lanciano un avvertimento. Non si sta facendo abbastanza per combattere il riscaldamento globale. L'anno scorso, durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26 a Glasgow, in Scozia, tutti i paesi hanno deciso di rafforzare i loro piani climatici. Tuttavia, solo 24 nazioni su 193 hanno presentato i piani aggiornati all'ONU. Un preciso motivo di preoccupazione è che tra i maggiori gas a effetto serra, nitride carbonica, metano, protossido di azoto hanno raggiunto livelli record nell'atmosfera l'anno scorso. Gli esperti dicono che è un segnale inquietante. Questi tre gas hanno nuovamente battuto nuovi record. Finora non abbiamo visto alcun reale miglioramento nella biosfera. Negli ultimi due anni, nonostante il lockdown, le emissioni che erano state azzerate non hanno abbattuto in modo significativo il livello dei gas. non ci sono stati miglioramenti tangibili nell'atmosfera a causa della lunga sopravvivenza di questi gas. Tra meno di due settimane i leader mondiali si riuniranno in Egitto per la COP27 col pianeta flagellato da tempeste, ondate di caldo e inondazioni legate al clima e alle temperature di 1,2 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali. gli esperti di clima delle Nazioni Unite affermano che il mondo deve agire molto urgentemente per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra.